Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza le modifiche alla legge sulla tassa automobilistica regionale per eliminare il regime di agevolazione per il noleggio di veicoli a lungo termine, con 22 voti favorevoli del Partito Democratico e 14 voti contrari di Italia Viva e dei gruppi di opposizione. Sono tre le novità che vengono introdotte nella disciplina del bollo auto. La prima, la più significativa in termini numerici, riguarda il noleggio a lungo termine senza conducente. Nel 2013 erano state introdotte una serie di agevolazioni, di riduzioni importanti per i proprietari dei veicoli a noleggio senza conducente. Queste agevolazioni vengono quindi eliminate con la legge che è stata oggi licenziata dal Consiglio regionale. Anche perché nel frattempo si era verificato un importante cambiamento, ovvero quello per il quale l'imposta non deve più essere corrisposta dal proprietario del veicolo, ma direttamente dall'utilizzatore. Pertanto si è stabilito che tutte le volte che vi sia un noleggio a lungo termine senza conducente e che l'utilizzatore abbia la residenza o la sede nel territorio della Toscana venga corrisposto, analogamente a tutti gli altri proprietari di veicoli, il bollo direttamente alla regione toscana. Dall'altra parte però c'è anche un altro importante cambiamento che riguarda le automediche. Non soltanto quindi le auto adibite ad ambulanza godono dell'esenzione dal bollo, ma grazie a questa legge l'estensione viene fatta anche alle automediche. E da ultimo si stabilisce l'effetto automatico della sospensione del pagamento del bollo al momento della trascrizione e della cessione alle imprese che sono deputate alla rivendita dei veicoli. Una volta era necessario avviare un iter amministrativo per poter godere della sospensione del pagamento della tassa. Con i diritti che avrebbero dovuto essere corrisposti per poter affruire di questa sospensione, oggi al momento della trascrizione e della cessione automaticamente si produce l'effetto sospensivo. Quindi da una parte abbiamo 9 milioni e 200 mila euro di gettito in più sul bollo che vengono dall'applicazione del bollo anche alle auto che sono a noleggio senza conducente. Dall'altra però ci sono minori entrate, ad esempio per l'estensione alle automediche o ancora per questo effetto sospensivo immediato per le imprese che sono deputate alla rivendita dei veicoli, di 200 mila euro, con un saldo quindi di 9 milioni di euro in più derivanti dal gettito del bollo auto. A beneficio di chi ha seguito questa discussione va detto, punto primo, è stato chiesto un consiglio straordinario di urgenza, quindi convocato di proposito con i costi che ha un consiglio straordinario, la motivazione e la richiesta di urgenza da parte del Presidente Gianni era la necessità di adeguarsi ad una legge, la legge numero 504 del 1992, cioè è dal 1992 che le tariffe del bollo auto si fissano entro il 10 di novembre, il Presidente Gianni il 2 di novembre si rende conto di non aver fatto l'adeguamento delle tariffe del bollo auto e convoca un consiglio di urgenza per farlo il 2 di novembre. Primo punto. Secondo punto, cosa si va a fare? Si va a stabilire che in Toscana dal primo di gennaio del 2023 chi ha un'auto a un noleggio a lungo termine dovrà pagarci sopra il bollo auto, cosa che fino ad oggi questo non veniva fatto. Chi è che ha auto con il noleggio a lungo termine? Professionisti, imprenditori, partite IVA, categorie che mi pare che negli ultimi anni divestazioni ne abbiano già avute abbastanza. Queste figure dal primo gennaio del 2023 dovranno pagare anche il bollo auto. Terzo punto, che forse è quello più strano che alimenta questa discussione. La regione toscana, grazie a questa modifica normativa, andrà ad incassare nel 2023 9 milioni di euro in più rispetto al passato, che destinerà al comparto della sanità. Tutto bene. Allora noi ci chiediamo cos'è successo nel 2022. Perché? Cos'è successo alla sanità toscana nel 2022? E perché questa domanda? Perché la legge che permetteva alla regione toscana di incassare questi 9 milioni di extragedito è la legge di stabilità del governo del 2019, in vigore dal primo gennaio 2020. Cioè la regione toscana ha scientemente scelto di non incassare questi 9 milioni di euro nel 2020, nel 2021 e nel 2022, andando ad incassare nel 2023. Quindi o nel 2022 è successo un cataclisma nella regione toscana, nella sanità toscana, per cui servono 9 milioni di euro in più e il Presidente Gianni ci deve spiegare cos'è successo, oppure il Presidente Gianni ci deve spiegare perché ha rinunciato ad incassare 27 milioni di euro tra il 2020 e il 2022. O ha perso 27 milioni o quest'anno è successo un cataclisma per il quale il prossimo anno servono 9 milioni in più. A questa domanda nessuno ci ha risposto. Ma si è arrivati al Consiglio straordinario perché deve essere pubblicata la modifica perché entra in vigore dal primo gennaio entro il 10 di novembre con la pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione. Quindi oggi era il giorno utile per poter avere i tempi poi non solo di approvarlo ma di pubblicarla sul bollettino ufficiale della regione. Si è fatta molta agitazione su questo ma in realtà era una motivazione molto semplice, non c'era un'urgenza per accorciare i tempi del dibattito ma solo per quello che ci richiede la legge. Bollo auto per tutti i cittadini rimarrà per l'anno prossimo esattamente quello che è ora. La modifica va a incrementare invece il bollo auto degli utilizzatori dei mezzi a noleggio. Quindi una nicchia, una categoria molto precisa perché è cambiata la legge a livello nazionale invece che le imprese proprietarie dei mezzi che vengono messi a noleggio la pagheranno gli utilizzatori e conseguentemente se le imprese che pagavano bolli per migliaia di persone esisteva un'agevolazione che poi le teneva in Toscana altrimenti le agevolazioni magari le trovavano in altre regioni e quindi con un vantaggio da parte della regione nel momento in cui cambia la legge nazionale e a pagare il bollo sono gli utilizzatori allora è giusto che paghino quanto pagano gli altri proprietari ovvero tutti i cittadini che hanno la loro auto. Quindi è stata semplicemente un'operazione di perequazione fiscale. La Lega ha votato contro la proposta di legge del PD non tanto perché eravamo contro a togliere il 10% di sconto per chi ha dei veicoli a noleggio quanto piuttosto critichiamo e fortemente il metodo dubitiamo seriamente del carattere di urgenza di questo Consiglio perché tutti sanno che entro il 10 di novembre eventuali modifiche sul bollo auto devono essere adottate dalle regioni. Quindi c'era tutto il tempo per intervenire e questo non è stato fatto. Siamo arrivati in fretta e furia ad approvare un provvedimento che non è chiaro neppure per quanto riguarda le fattispecie di riferimento. Noi abbiamo presentato un emendamento per dire se si tratta soltanto dei veicoli a noleggio a lungo termine così come fa riferimento la normativa nazionale o anche a quelli a breve. C'è molta confusione, c'è anche divisione all'interno della maggioranza abbiamo visto Italia Viva che non è stata a votare questo provvedimento e consideriamo invece che la Lega è riuscita a far approvare un proprio ordine del giorno per il sostegno alle famiglie con minore a carico e con gravi disabilità. Questa è la Lega del fare. Noi cerchiamo di dare risposte, cerchiamo di analizzare compiutamente i provvedimenti che vengono da una giunta invece che è sempre più in stato di confusione e la arroganza ha la meglio rispetto a quello che potrebbe essere il buonsenso il dialogo con l'opposizione. La giunta regionale evidentemente ha bisogno di andare a cercare delle risorse finanziarie perché è l'unico modo con cui si giustifica la fretta e il modo con cui in questo momento sono andati a mettere le mani nelle tasche di partite IVA, piccolissime imprese fatte anche da una sola persona che sono quelli del noleggio auto a lungo termine ad esempio per ricavare 9 milioni di euro che mi viene da pensare sono quasi la stessa cifra che un anno fa era stata data a Toscana Aeroporti come ristoro e salvo poi sapere che erano stati divisi gli utili da quel punto di vista. Un'altra cosa molto curiosa è che vengono chiesti questi 9 milioni in più dalle casse che vengono comunque sono mani in tasca che vengono messe a una categoria che lavora e che produce ma non si sa come vengono finalizzati e soprattutto viene da pensare se la regione non abbia trovato altro su cui risparmiare o su cui riuscire a incassare maggiormente e a questo punto viene da fare due riflessioni. I rumors riguardo il buco di bilancio che ci aspetterebbe a fine anno per la sanità continua a essere sempre più forte e consistente e il dubbio è che siano diciamo un bicchiere di acqua in mare per cercare di andare a colmare questo buco. L'altro pensiero che ci viene da fare riguardo a questa iniziativa a questa presa di posizione diciamo della regione toscana riguarda il fatto che le cifre che vengono cercate non sono state vincolate in nessun modo. Quindi la regione oggi ci dice che ha trovato dove esigere 9 milioni di euro in più dai toscani, da una categoria di toscani ma non ci dice come le vuole spendere e il sospetto è che in realtà ci sia dietro un problema più grosso di quello che in questo momento appare. Ma Eteravia ha votato contro questa legge perché riteniamo inopportuna un aumento delle tasse che non venga poi correlato a un'attribuzione di queste risorse che sono 9 milioni di euro a favore poi delle imprese, dei commercianti, degli artigiani di colori che più di altri stanno soffrendo e quindi noi avevamo detto fin della settimana scorsa che eravamo disponibili ad aumentare questa tassazione solamente a una condizione quella condizione che queste risorse siccome verranno pagate essenzialmente da libri professionisti da artigiani, da imprese che molte volte hanno auto a noleggio potessero poi essere restituite nei confronti delle imprese, dei commercianti, degli artigiani che più di altri stanno soffrendo rispetto al caro bollette al caro energia e riteniamo che questo sia una cosa ingiusta non servono queste risorse per pagare il buco della sanità se questo c'è deve essere spiegato se esiste o se non esiste e quindi su questo ci chiediamo chiarezza ovviamente la maggioranza di governo è regione toscana e non siamo stati disponibili a cedere sui nostri valori sui nostri principi insomma si può perdere una battaglia in aula ma non si può perdere la dignità quindi per noi questa imposizione fiscale non esiste perché altrimenti queste risorse andavano destinate qualora si voleva aumentare le tasse soltanto a favore delle imprese Assolutamente è un tema di attualità finalmente la Giunta è riuscita a chiarire quelle che erano le evidenti intenzioni ovvero quella di cercare di reperire delle risorse che andassero a colmare una lacuna della nostra sanità che pare oggi essere quasi un treno alla soglia del deragliamento quindi c'è una situazione sicuramente critica che oggi ha richiesto questo intervento straordinario dall'altro però sono molto soddisfatta perché di fronte a quella che sembrava essere quasi una destinazione definita quasi inaspettatamente è stato approvato è passato diciamo al voto dell'aula un nostro ordine del giorno che su quei 9 milioni finalmente dava cercava almeno di dare una risposta alle imprese ovvero prevedendo che queste risorse andassero ad essere destinate per quanto riguarda diciamo interventi strutturali per far fronte a Carobollette o meglio all'efficientamento energetico degli edifici produttivi a noi sembra che oggi siamo in una situazione in cui il sostegno alle attività produttive e quindi di conseguenza l'occupazione debba essere una priorità abbiamo come dire scansato che queste risorse fossero destinate poi integralmente invece alla sanità che già copre l'80% del bilancio regionale e noi non possiamo permetterci di mettere sulla spesa corrente altre risorse senza programmazione o almeno non solo senza programmazione ma anche senza vederci chiaro su quello che è il futuro del sistema sanitario oggi invece siamo riusciti a dare grazie a questo ordine del giorno anche un indirizzo specifico a sostegno del sistema produttivo io credo che sia davvero un segnale importante aggiungo che anche Italia Viva componente della maggioranza ha ritenuto di seguire questa nostra intenzione di dare una destinazione precisa a questo tesoretto di 9 milioni evidentemente registrando una maggioranza che come dire su alcuni temi come abbiamo già visto ha delle spaccature quindi su questo c'è un tema politico che sicuramente si porrà con sempre maggiore insistenza anche in futuro via libera maggioranza dal Consiglio regionale con 28 voti favorevoli e 10 astensioni alle linee di indirizzo per l'elaborazione del programma di attività di IRPET definite dal Governo regionale come ogni anno la Giunta regionale ha recepito una serie di indirizzi da trasmettere ad IRPET per l'attività di ricerca del prossimo anno anche in una proiezione pluriennale e il Consiglio regionale ha condiviso sostanzialmente le linee di indirizzo che la Regione ha trasferito ad IRPET in quanto l'attività di ricerca che questo ente svolge si dimostra da sempre particolarmente preziosa per l'azione di Governo regionale ma a maggior ragione si dimostra tale in questo contesto storico con contesto caratterizzato da profonda incertezza nel quale da una parte occorre fronteggiare la crisi energetica i rincari dei costi che sicuramente incidono sul prodotto interno lordo anche della nostra Regione dall'altra la necessità di far fronte alle tensioni internazionali e al minore approvvigionamento di risorse che si registra in questo periodo il tutto in un momento storico particolare come questo nel quale la Toscana come le altre Regioni italiane è chiamata a vivere la sfida del PNRR e quindi l'utilizzo delle risorse in una logica di sviluppo compatibile in questo contesto l'attività di ricerca di IRPET diventa particolarmente importante anche sotto il profilo della consulenza che viene prestata da quest'ente sia alla Giunta regionale che al Consiglio regionale ed è per questo che il Consiglio regionale toscano ha deciso di approvare le nuove linee di indirizzo ad IRPET nelle quali peraltro ci si appunta su un aspetto particolare quello della innovazione e della digitalizzazione soprattutto allo scopo di considerare quali aree del nostro territorio regionale vivano uno stato di digital divide e capire quali ripercussioni questo possa avere sullo sviluppo della economia e della società toscana. Non ci convincono del tutto lo diciamo subito noi in commissione abbiamo ascoltato la relazione del direttore di IRPET Nicola Sciclone abbiamo negli anni espresso quando c'era da esprimerlo il nostro favore rispetto all'attività di IRPET e quest'anno alcune cose ci lasciano un po' perplessi innanzitutto perché credo che quello che sta accadendo nel mondo e anche per l'economia italiana con tutte le ripercussioni ci sono dalla pandemia alla crisi energetica porterebbe una serie di riflessioni la prima sicuramente se quella è crescita economica inclusiva e sostenibile che è sicuramente un obiettivo condivisibile ma molto ambizioso sia oggi veramente da realizzare noi poi siamo rimasti basiti quando vedendo un programma di attività con proiezione trinale non si fa minimamente scennio quello che dal nostro punto di vista è uno degli strumenti per far ripartire l'economia toscana che è il regionalismo differenziato noi abbiamo chiesto al direttore e abbiamo sollecitato anche l'aula perché? ci è stato detto di una scarsa attualità del tema in realtà se andiamo a vedere l'attività del nuovo Parlamento e le parole soprattutto del nuovo Presidente della Camera Lorenzo Fontana è sicuramente di stretta attualità quindi esprimiamo tutta una serie di perplessità sul programma di attività che dal nostro punto di vista deve essere aggiornato di più per rispondere meglio alle necessità e alle problematiche del momento un momento che sta mettendo sotto pressione tanti toscani e dobbiamo per questo interagire sempre di più anche con lo stesso Istituto di Ricerca di Programmazione Economia e Territorio noi chiediamo da tempo un confronto continuo in prima commissione ancora non sta accadendo e non vorremmo non aver avuto gli strumenti le conoscenze adeguate per poi dire che un giorno non abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare per il nostro paese per la nostra Toscana ma ne abbiamo votato a favore perché abbiamo dato a IRPET l'indirizzo di affrontare uno studio sul Digital Divide in Toscana cioè su come la diffusione di internet della rete in Toscana possa creare differenze tra una zona rispetto all'altra noi abbiamo chiesto di inserire due valutazioni che secondo noi sono fondamentali ovvero di capire se questo divario digitale che esiste ad oggi tra alcune zone piuttosto che altre influisce anche sulla diffusione sulla nascita di nuove imprese soprattutto le imprese individuali editte più piccole cioè se uno deve aprire editta oggi valuta o meno di aprirla in una zona dove la copertura internet è più forte rispetto a un'altra se sì o no e soprattutto anche sulla scelta della residenza quindi il tema della residenzialità tanto cara ai nostri sindaci cioè cercare di capire una persona dove va a vivere se oggi nella scelta della zona dove vivere dove acquistare una casa dove erradicare la propria famiglia prende in considerazione anche la copertura digitale la presenza o meno di internet e anche questo secondo noi è un tema importante quindi siamo curiosi poi di vedere cosa ne nascerà da questo studio perché oggi purtroppo la Toscana ha troppe zone dove si paga ancora un gap digitale rispetto ad altri il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità una mozione presentata dal PD primo firmatario Giacomo Bugliani che chiede alla Giunta di attivarsi nei confronti del Governo e del Ministero dei Beni Culturali affinché siano messe in atto iniziative volte a tutelare il comparto dell'artigianato artistico e in particolare l'attività degli operatori di Carrara specializzati nella riproduzione di opere scultore una mozione che è stata approvata all'unanimità dall'Aula del Consiglio regionale che ha come obiettivo quello di tutelare un settore particolare dell'artigianato l'artigianato artistico con particolare riferimento alla riproduzione di opere d'arte segnatamente scultore famose il tutto nasce da una vicenda vicenda che è nata nel territorio di Carrara nell'ambito dell'attività di un laboratorio artistico e che ha visto la riproduzione del David di Michelangelo si è innescato un contenzioso giudiziario che ha portato il Tribunale di Firenze a inibire al laboratorio artistico la divulgazione di quell'immagine riprodotta del David di Michelangelo che in realtà aveva alcune caratteristiche di diversità rispetto all'originale il quadro che si sta delineando è un quadro che ha allarmato profondamente gli operatori del settore il rischio che andando per questa direzione e perseverando in questa prospettiva si possa smantellare un intero settore dell'artigianato appunto quello dell'artigianato artistico con particolare riferimento alla riproduzione delle opere scultore è effettivamente molto elevato e il problema non riguarda soltanto Carrara che pur ha un'attività molto intensa nell'ambito dei laboratori artistici del marmo ma può riguardare appunto l'intero territorio nazionale per questo con questa mozione ho voluto chiedere alla giunta regionale di potersi attivare presso il ministero affinché possano essere adottate tutte le misure più opportune affinché pur nel rispetto della normativa vigente in particolar modo del codice dei beni culturali e ambientali possano mettersi in atto le misure necessarie per garantire questo settore così importante quello dell'artigianato artistico tutte le imprese che vi operano che sono oltre 20.000 e anche i moltissimi lavoratori di questo settore il consiglio regionale ha approvato all'unanimità una mozione presentata da Italia Viva che impegna la giunta ad intervenire sulle aziende ASL e sulle articolazioni sociosanitarie e territoriali per la piena applicazione della delibera del luglio 2020 in merito alla diagnosi precoce e alla presa in carico dei disturbi dello spettro autistico nel corso della vita si ringrazio i colleghi del consiglio regionale per aver votato in maniera unanime un atto che va a favore dei ragazzi che soffrono della sindrome dell'autismo delle loro famiglie di un percorso individuale che necessita di una diagnosi precoce che deve essere fatta di un'attuazione di un'anni libera che da troppo tempo attende di essere applicata in maniera omogenea in tutta la Toscana e questo credo che sia un atto importante quindi un monito un richiamo all'assessorato alla sanità perché su questo aspetto si possa vigilare io fin da quando ero presidente di commissione di sanità su questo tema mi sono attivato con forza e oggi abbiamo ripresentato con coraggio questo atto che poi va a favore delle famiglie e dei percorsi individuali dei ragazzi che devono avvenire sia in ambito scolastico ma anche fuori dalla scuola questo è un elemento positivo che può dare tanta autonomia ai ragazzi nel contempo se individuato in maniera precoce può una diagnosi precoce può aiutare anche a migliorare molto molto la qualità della vita di questi ragazzi grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.